la macchina ecco l'avevo vista questa è praticamente la cena che si fa sotto la torre ok il catering ecco io mi ho fatto le foto da sopra ecco l'avevo sono gli arti di foto adesso cosa faccio adesso c'è qualcosa su questo come sta adesso allora allora ho un matrimonio 7 ottobre che roba è questa? ecco ah si 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 questo può essere vediamo allora il matrimonio normalmente li celebro qui ah ah il teatro al teatro questo vedi la pelata è questo questo è un matrimonio celebrato al teatro il matrimonio è un matrimonio bello qua in Italia no io sono stato un uomo autorizzato all'assistere alla cerimonia che vuol dire? è dolce del mondo ah intanto ci avevano anche la persona che ci ha dato ah ma questi non no no Maria però prima non so se fare del loro però no io non ce la vengo io stavo lì questo è un uomo curioso e a fare poco se sta in giro non mi comporta non devi portare la persona poi chiaramente però in ogni quest'anno devi rinchiostrare e diventare il fatto è praticamente tutto perché sta andando con questo sistema bene questo è costante che cos'è? quella lì è una retrocamera una sorta di macchina fotografica che serviva però non era del mio nonno quella mi è stata regalata regalata? sì mi regalò oltretutto perché questo fietto lì è stato di un certo annodono d'ore e qui è tutto certificato tutto scritto funziona ancora? sì potrebbe funzionare ma siccome non sono assolutamente cioè con la massa di zico incisa si stampano quelle cose lì bello sì beh qui stiamo andando indietro questa è del 1923 bene bene tutti i cattosini sono deciso di questo il nostro testo è stato diverso Francesco Pagnace, come le sue righe, è principalmente il nome di questi caratteristiche. C'è il vestito, c'è anche un po' un po' di caratteristiche. Poi immaginavo quando mi cucinavo, avevo visto un po' di caratteristiche. Comunque c'è tutto quello che era di mio nonchia parla. Ilouverture Seree Paggatto Ilmeria F stitch Paggatto 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 e quindi hanno contatti anche ad altri temi io l'anno scorso sono separati da maggio a due ottobre e quattro a 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 quattro quindi ci abbiamo prestito poi ho cominciato al salto le quali prezziato l'art musiquetto perché io sono grafico abbiamo fatto incisioni abbiamo fatto vari corsi ma io nell'ambiente è abbastanza conosciuta la stamperia però certo forse i grafici si pure noi che usiamo il computer cogliere la mente per farla conoscere vero? o zinco? zinco, questo è zinco, però questa è l'ingisione fatta con la cera, si, acqua forte lo strato in cera, poi l'artista che incide la cera in pratica si chiamano acqua forti invece se incidevano direttamente il rame erano a bolino, il gisore a bolino e mi sa che sono questi rame? a bolino, no? lo sembro come? no, ma che bello non mi è piaciuta l'intervista, la giancherata come la signora io spero di mostre, no? in qualità, no? si, si, certo i cittadini, i punti, i punti, quello è stato per una propria menzione certo, certo, certo però mi vengono molte sorelle anche da Roma, anzi soprattutto da Roma il mio numero è il mio numero ecco, l'avevo vista fare, ecco questa è praticamente la cena che si fa sotto la torre ok, il matrimonio? il catering, eh ah questo è il mio numero ecco questa è praticamente il si ci fanno no no sono precisi io le ho ero ecco ecco la prima macchina ecco la ho vista fare questa allora che ti faccio da te ecco la potenza Grazie a tutti.